Ecco, proprio le tecniche per la collocazione della formella e della discesa anche del telo che coprirà la ceramica per la mano di Spagna. Stiamo arrivando quasi a metà. Spingi, spingi, tienila un po' perché... Ok, siamo a più modo giusto, perfetto. Va benissimo. Scendi, scendi. Vai, 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 vai. Ecco, perfetto così, va bene proprio così. Va benissimo, va benissimo. Ascolta, questa trama gliela togli. Sì. Andiamo a gioco perché lo impassa. Ma non lo ti hai. Llego. Spingi, spingi la sempre. Sì, solleviamo la quarantena. Sì, sì. Poi guarda il fianco di là. Guarda. Sì. Ok. Sì. 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 Perfetto. Sì. 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 Spingi appena appena anche qui. Appena appena qui. Ok. Spingi appena più giù. Spingi appena il livello. Prendingata l'alto. Sì. E' perfetto, i dentelli sono a posto. Che numero è quella lì? Sono giuste, hanno messo anche le misure nel senso giusto per il montaggio. Sono siciliani, sono perfetti, in una settimana ti arriva il prodotto, solo che il grafico deve lavorare in maniera tale che la scritta non sia compromessa più di tanto. Ok, perfetto, la sua spinge per appena assurdo, ok? C'è un po' di intercappetine qua che si vede in alto. Lì nell'angolo, se no facciamo il dentello, il muro non è perfetto, lì bisogna siliconare. Perché lo vedo con le piastrelle? Va bene. Sì, sì, sono le ultime cinque. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, questo è un po' di risolazione. Sì, è un po' di risoluzione, è un po' di risoluzione. quella a destra. Mantenete, mantenete. No, è giusto, è giusto, è giusto, il senso è giusto. Andiamo a aprire per vedere l'altra. No, mantenete ancora però, non... No, no, questa sì, no, io lo uso spesso. Attacca subito. Non la stacchi più, eh. Noi una volta, abbiamo proprio la staccare subito. Lo controlliamo perché non va bene. Invece andava bene. No, stavamo disegno, non concordi. Invece, sarebbe stato bene. Mi sembra che siano anche. Ecco, l'ultima piastrella si sta piazzando. Entra qui. Ok. Guarda, guarda. Scusate un attimo. Di fianco c'è. E così, la piastrella del Camino Valoni Spagna. Puoi vedere? A questo punto qui. Sì. Uno lì. E uno con l'altro. Sì. Lo lì. sì, anzi in maniera entusiasta, davvero grazie, grazie. Ma me l'ha fatta delle volte, anche mia socia, madonna di Spagna, vero, è la dita di Michele Orro che hanno piazzato le 21 piastrelle del cammino della madonna di Spagna, adesso il comune ha le due, ecco, fatto realizzare anche il cibo, e lo piazzerà qua. Questa formella è stata offerta, rimarrà qui a segnare il chilometro zero, ma anche per la depozione. Ecco, adesso si sta siliconando, in maniera che non entri l'acqua. No, no, c'è ancora. C'è, c'è.